Ciao ragazzi bentornati su Prophecy Tech by Next Hardware Prima di tutto sono gasatissimo perché ho visto il trailer del nuovo Battlefield E quasi meglio di Mourinho la Roma Almeno per quanto mi riguarda sono le due cose più interessanti per ora che sono accadute in questo 2021 Fatemi sapere anche voi con un commento, sono molto curioso Cosa ne pensate se siete appassionati tanto quanto me Vabbè sia della Roma ma nello specifico mi riferisco alla saga, la saga di Battlefield Comunque come avrete già letto dal titolo e dalla miniatura Oggi sono qui per parlarvi, sì, di un nuovo preassemblato Visto che vi è piaciuto tanto, cioè mi sembra di capire che abbiate apprezzato il primo episodio Dove appunto vi ho portato un preassemblato di HP Ho detto diamo continuità a questa serie Tra l'altro oggi parliamo di un Lenovo Il Lenovo bazzicano sia tra i canali, sia sul nostro canale Telegram che su quello anche degli altri Diciamo sono su Amazon, spuntano ogni tanto Qualcuno di voi si sarà chiesto ma come sono sti preassemblati Ecco oggi cerco di rispondere a questa domanda Prima di tutto ecco per coloro che si fossero persi quel video Sull'HP Pavilion è che ci fa un PC desktop preassemblato Kernan in questo canale Nulla, semplicemente visto che non ci sono le scade video Diventa interessante tutto ciò che porta con sé una scada video E infatti alcuni di voi che hanno bisogno di un PC Già da un po' hanno iniziato a prendere in considerazione anche soluzioni di questo tipo Però lo dico subito, pure questi preassemblati sono difficili da reperire ad un buon prezzo Non è che finisce il video e pam lo metti nel carrello Anzi, noi ma come altri, l'ho già detto, cerchiamo di seguirli e postarli Naturalmente quelli che riteniamo più interessanti quando il prezzo è ok Quindi se mai foste interessati e volete avere qualche chance in più di portarvene a casa uno Vi invito a seguire il nostro canale Telegram delle Offerte Che come sempre trovate giù in descrizione, trovate il link Anche perché l'Amazon Prime Day si avvicina, sarà il 21-22 giugno Quindi potete iniziare a seguirci adesso per poi passare insieme a noi Se vi va, siete super benvenuti il Prime Day Allora, il preassemblato di cui parlerò oggi è appunto un Lenovo Un bellissimo Lenovo Legion Tower 5 Gaming Mamma mia, spacchiamo tutto? No, non è vero che non mi ha mandato Lenovo, ve lo dico subito Ho avuto modo di provarlo semplicemente grazie ad un amico che me lo ha lasciato un paio di giorni E l'ho messo un pochino sotto torchio Rispetto all'HP che abbiamo visto la scorsa volta Come starete già vedendo da queste riprese È sicuramente un preassemblato più interessante Perché è decisamente più vicino ad un PC che ci possiamo assemblare da noi A partire dal case che è un Micro ATX simile ad altri modelli che possiamo acquistare Come componenti singoli In questo caso il pannello sinistro non è in vetro Ma ho visto che ci sono dei modelli di fascia più alta Sempre Lenovo con il pannello in vetro Però il frontale è in mesh Così come il top, anche il top è aperto E all'interno trovate preinstallate due ventole da 120 mm Una davanti e una nel retro E sono addirittura delle 4 pin PWM Incredibile ma vero Comunque questi Lenovo sono tipicamente dotati di ventole di serie Sia davanti che sul retro Una cosa strana ragazzi di questo case È che il filtro che trovate in top Non è il classico filtro magnetico Facilmente rimovibile Ma sembra quasi saldato sul case Poi dando uno sguardo al manuale Pare che possa essere rimosso in qualche modo Io comunque non mi sono spinto oltre diciamo E la parte superiore ad ogni modo può ospitare sia delle ventole Anche da 140 mm E ad occhio ci starebbe volendo senza grossi problemi Un radiatore da 240 mm Da 280 non so Ma per il 240 non vedo problemi Vi dico la verità sono rimasto commosso Quando ho visto i dissipatori dedicati al VRM di questa scheda madre Altra cosa assolutamente non scontata Quando parliamo di preassemblati Scheda madre che è una B550M ATX di Lenovo Quindi piattaforma AMD Il processore è un Ryzen 5 3600 Che resta anche nel 2021 ragazzi comunque un valido processore Come detto tante altre volte Ora come ora se vado sul nuovo Se mi assemblo un PC Io non punto ad un Ryzen 5 3600 Ci sono soluzioni pari budget migliori Però comunque se trovate una buona occasione Con un preassemblato che monta un Ryzen 5 3600 Ancora va bene La scheda video è invece una NVIDIA GeForce RTX 2060 B-Ventola di Zotac Stando a quanto mi riporta HWinfo Tenuta altrettutto ben salda Al case da questo supporto In plastica Questa sorta di GPU holder Che è fissato proprio al case con delle viti Piuttosto bruttino da vedere Ma utile indubbiamente per evitare che la scheda si possa danneggiare Durante il trasporto anche perché lo sappiamo I corrieri non sempre sono particolarmente delicati È chiaro che Ok questo Lenovo non monta hardware di ultima generazione Ma il video non è incentrato su questo specifico modello Più che altro serve a vedere in generale Un po' cosa vi potete aspettare da questi preassemblati C'è un altro ad esempio Che va via come il pane Quando torna disponibile su Amazon Che è equipaggiato con un RTX 3070 E un Ryzen 7 5800X Si trova quando è disponibile Vendute spirito da Amazon Sui 1500€ o poco più Ed è oggettivamente un bel colpaccio Perché conoscete benissimo i prezzi ormai Delle schede video Lo stesso 5800X da solo Sono più di 400€ di processore Quindi già scheda video e processore in quel caso Valgono la spesa Dai diciamocelo chiaramente Ed è molto simile a questo Io non ho avuto modo di provarlo Però il case ho visto che è questo Fondamentalmente è uguale a quello del modello che ho testato io E quindi per dirvi che Ci sono soluzioni con hardware più recente Poi resta anche questo con la 2060 Che comunque è una scheda video Che si difende ancora bene in Full HD È interessante se comprato al giusto prezzo Lo abbiamo postato per dire A 950€ usato 950€ circa E non è un cattivo prezzo in questo momento Che stiamo vivendo Perché con quei soldi oggi Fai davvero ben poco Salvo botte di fortuna incredibili Nuovo costerebbe 1050 Prezzo sempre di Amazon Ripeto non è una cifra assurda in questo momento storico Chi è sul pezzo minimo lo capisce benissimo Per dare un'idea invece a chi si è avvicinato solo ultimamente Al mondo del PC gaming E sappiatelo avete proprio beccato un periodaccio Ma ve ne sarete accorti Lo scorso anno di questi tempi La scorsa estate Se volevi restare sotto i 1000€ Ti facevi un PC con caratteristiche molto simili Magari spendivi un po' di più Andavi su una 2060 Super o su una 5700 XT Sponda AMD Che è comunque bella scheda Ma se non volevi sforare proprio quella cifra E realizzare una configurazione comunque bilanciata La 2060 barra RX 5600 XT Erano le due soluzioni sulle quali andare Poi ovvio ti facevi un PC nettamente migliore di questo Per tanti aspetti Adesso lo vediamo Ma le specifiche Le caratteristiche principali Diciamo le prestazioni Che erano quelle Mentre l'alimentatore del Pavilion Era buono Una buona unità Questo è abbastanza pessimo È un 550W Di Antki Produttore che non gode Assolutamente di una buona fama Però non tutti i Lenovo montano alimentatori Di questo M Ho visto di FSP Ad esempio di altre case Quindi diciamo che io sono stato un po' sfortunato Mettiamola così Però quantomeno è un alimentatore ATX standard La scheda madre è alimentata dal classico 24 pin Quindi se mai uno volesse sostituirlo Si può fare senza grossi problemi I limiti di questi preassemblati Ragazzi poi sono sempre un po' gli stessi La RAM Spesso non è un granché Anche in questo caso abbiamo due moduli Quindi dual channel c'è Due moduli da 8GB 16GB Da 3200M Però i timing fanno pena Perché sono delle CL22 Sono dei timing Alti Questo non vuol dire che poi Non va in gioco Avete un calo prestazionale Rispetto che ne so Delle 3200M CL16 Pauroso Assolutamente no Però insomma Sicuramente se vi assemblate un PC da voi Ci andate a mettere Ecco appunto Delle 3200M CL16 Ok Ho visto che anche Salditek ha recentemente portato Un preassemblato Un video su un preassemblato E anche lui ha provato L'ebbrezza delle 3200M CL22 E poi il BIOS In queste Nei BIOS di queste schede matri Puoi fare veramente Veramente ben poco C'è una suite di controllo Di Lenovo Con la quale potete Fare un minimo di overclocking Per quanto riguarda Schede video e processore Un po' di tuning Vabbè Però dal BIOS Potete fare davvero ben poco E soprattutto Manca L'opzione per attivare Il profilo XMP Delle RAM E quindi questo vuol dire Che anche se andate a cambiare La RAM Comunque non avete Pieno controllo Su frequenza E timing E la scheda madre Che va ad impostare Automaticamente Entrambe Entrambe le cose In base a come è stato Configurato il BIOS Del vostro Modello Per quanto riguarda Invece le temperature Quella del processore Si mantiene sempre A valori Piuttosto alti Anche con carichi Non particolarmente Importanti Sia perché Vabbè Il dissipatore Non è un granché È una soluzione Simile ad un Braidspire Ad un dissipatore Stock VMD Ma soprattutto Perché le curve Delle ventole Di base Sono impostate In modo Molto poco Aggressivo Infatti c'è da dire Che il sistema Resta Decisamente silenzioso C'è un'impostazione Nel BIOS Così come anche Nel software Di Lenovo Con tre opzioni A disposizione Ovvero Quiet Balanced Che è quella di default E performance Sto parlando sempre Della velocità Delle ventole Però Che io ricordi Perché ripeto Ha passato un po' Di tempo Quando ho switchato Da bilanciato A performance Non ho notato Grandi cambiamenti Insomma mi sembrava Che le ventole Girassero sempre A velocità A regimi Piuttosto Contenuti E soprattutto Non c'è modo Di personalizzare Queste benedette curve Ed è un limite Sicuramente Per chi è abituato Un minimo A smanettare Con il pc Perché non potete Aggiustare Con precisione Il tiro In base Alle vostre Preferenze La scheda video Non è rumorosa Si è comportata Devo dire bene Quindi tutto sommato È una buona RTX 2060 E anche in questo caso Come ho fatto Con l'HP Ho provato a sostituirla Al volo Con un'altra E non ho avuto Problemi Ho installato i driver Come faccio sempre Insomma Il tutto ha funzionato Correttamente Quindi Se mai uno volesse Cambiare Scadar video in futuro C'è Questa Possibilità Non ho provato a rimuovere Invece il dissipatore Del processore Però vi faccio notare Una cosa Alquanto strana Che potete Vedere Da questa ripresa Ovvero Il backplate Utilizzato Dalla scheda madre Non è quello Del socket M4 Non lo ricorda Nemmeno Infatti vedete Che le viti Non sono distanziate In modo da formare Un rettangolo Ma vanno a formare Un quadrato Praticamente ragazzi Questa è Sì una borda MD Ma per quanto riguarda Il sistema di installazione Del dissipatore Della CPU È fondamentalmente Una scheda madre Intel Con socket LGA 1.1 X O se volete 1200 Tanto Fa lo stesso Tant'è vero Che ho trovato Sul forum di Lenovo Un utente Che ha sostituito Il dissipatore stock Aveva anche lui Uno di questi Preassemblati Con piattaforma MD L'ha sostituito Con un Arctic Freezer 34 eSport Duo Andando ad utilizzare Però il kit di installazione Relativo al socket Intel LGA 1200 Mai vista Personalmente Una cosa simile Però Questo è E tra l'altro Ho letto in giro Anche che quel backplate A quanto pare È incollato Sulla scheda madre Cioè chi dice Comunque Che può essere Rimosso facilmente Chi dice che invece È incollato Proprio bene Insomma Io ribadisco Non ho fatto prove In merito Ma vi ho dato anche Questa informazione Per il resto Ho già predisposto Per l'installazione Di Hard disk SSD SATA Ed è un upgrade In questo caso Necessario In questo specifico caso Perché è equipaggiato Di base Solo con un SSD NVMe Da 500 Gigabyte E una cosa Che non vi ho detto Il PC Vi arriva Con il sistema Operativo Con Windows 10 Installato E tutta una serie Di programmi Che secondo me Non vi Hai più Almeno a me Non interesserebbero Infatti Uno dei consigli Che vi do È quello di fare Un bel format Partire con un sistema Operativo pulito Vi installate Le applicazioni Insomma I software Che decidete voi E siete Felici Capisco perfettamente Che chi compra Questo Chi è interessato A soluzioni di questo tipo È il classico utente Che prende il PC Lo piazza Sulla scrivania Schiaccia il pulsante Di accensione Chi si è visto Vuole iniziare a giocare Non pensare ad altro Però se invece Vi state Diciamo Addentrando un pochino Più Un pochino di più Nel mondo Vero del PC gaming Questo è il consiglio Che vi do Che dire ragazzi Di certo Un utente Un minimo appassionato Non può rimanere affascinato Nemmeno da questo Trassemblato Però pur con tutte Le sue limitazioni Mi sento di poter dire Che c'è di peggio Il case Alla fine è ok La temperatura Sempre parecchio alta Del processore Come detto Non è dovuta Ad un cattivo airflow Ma dal dissipatore in sé E soprattutto Come vi ho spiegato Dal fatto che La ventola girava Nel mio caso Ad RPM contenuti Quando vedete La CPU in gioco Ad 80 gradi Tenete presente Che la ventola Del dissipatore Da quello che ho visto Viaggiava di media Sui 750 RPM Una cosa del genere Che per una ventolina Da 80 mm È davvero poco La scheda video Non è affatto male Che poi è una delle cose Più importanti E anche il modello Con la 3070 Mi sembra di capire Guardando altri contenuti Che monti Una buona custom Quindi secondo me L'utente Potenzialmente interessato Ad una soluzione Del genere Resta alla fine Soddisfatto Di quello che offre Out of the box Mentre Per quegli utenti Un pochino più avanzati Che stanno Prendendo in considerazione Non lo so Per cavoli vostri Anche un pc Di questo tipo E magari Trovate uno di questi Lenovo A prezzo Per voi Particolarmente Vantaggioso Lo spazio di manovra A livello di upgrade O per eventuali Modifiche Che potreste apportare Non è male E tenete presente Alla fine Che le limitazioni principali Se ci pensate Sono legate Alla scheda madre Che oggi come oggi Soprattutto se parliamo Di B550 Non è un componente Particolarmente costoso Anzi ora come ora Te le tirano Letteralmente dietro Poi magari Al Prime Day Con gli sconti Che faranno Sui prodotti Dell'Amazon Warehouse Se li faranno Ma penso di sì Probabile che te ne porti A casa una buona Con 80 euro Se non meno E poi a quel punto Fai un po' Quello che vuoi Comunque fatemi sapere Voi cosa ne pensate Scrivetemi anche Se vorreste vedere Altri episodi Di questa serie E in caso Suggeritemi Altri preassemblati Da testare Lo sapete che non è Facilissimo Portarli sul canale Ma io ci provo Se vi va Lasciate anche Un bel like E niente Noi ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video